Ogni mese passi 2583 minuti pensando a cosa indossare. Certo, per evitare di essere out. Passi 1736 minuti pensando a cosa ordinare al bar. Certo, per evitare di essere banale. Passi 294 minuti pensando a quali emoji usare. Certo, per evitare di essere noiosa. E se per un minuto pensassi a evitare i rischi dell'epatite C? Epatite C. Se il tuo anno di nascita è tra il 1969 e il 1989, ci devi pensare. Basta poco. Il test è semplice e gratuito.